Ragazzi, voi siete delle opere d'arte, no? Uniche, irrepetibili e quindi non dovete essere perforati. Voi dovete riprendere la stima in voi stessi. Se anche vi prendono in giro, voi pensate che voi siete unici. E quindi nessuno si può permettere che tu sia bianco, nero, uomo, donna, islamico, cattolico. Non dovete farvi del male perché pensate se voi foste quelli che lo ricevete questo messaggio. Vi farebbe piacere? Cioè sostituitevi. E allora forse, io ho parlato anche con ragazze che si fanno selfie, quando lì c'è tutto il percorso del sexting, queste ragazze si fanno del male. E io dico sempre, quando il ragazzo ti chiede dammi una tua foto o sé, e io gli dico no ma non me la sento, ma resta fra di noi, dico ragazze, scappate, perché questo qua ha il mononeurone, la foto che portate è per sempre. Questo qua domani rompete, ha un'arma contro di voi, un'arma di ricatto, non svilerite il vostro corpo, perché come dico è un'opera d'arte, no? E quindi unica e irripetibile, non va svenduta al pubblico della rete, perché poi tutti dicono, ah ma l'ho messa su Instagram, poi si scioglie, poi non dura, la metto su Snapchat e poi si scioglie. Non è vero, resta sempre, perché chi la riceve la Repubblica e tu hai finito. Cioè i ragazzi pensano che siano cose transitorie, purtroppo non è così, bisogna sempre pensare prima di postare.